Intanto con Rao, adesso la parola d'ordine è essere più indipendenti dalla Russia e quindi anche raddoppiare per esempio le trivellazioni o comunque fare in modo che il TAP... Eh beh sì, anche quella è una delle direzioni su cui si sta ragionando. No nel senso, non ne voglio sentire parlare a... oppure no, non si farà. Chiedo. Ma no, no, capisco che è la direzione che qualcuno pensa di intraprendere ma io non credo che sia assolutamente una soluzione. Cioè intanto perché la quantità di gas che possiamo andare ad estrarre è irrisoria e non è sicuramente risolutiva e poi perché comunque il nostro problema di dipendenza da questa fonte fossile non la risolviamo andando a fare altri investimenti sulla stessa fonte fossile. Cioè il problema è che noi non abbiamo fatto i giusti investimenti nel corso degli anni non ci siamo resi più indipendenti energeticamente puntando su energia pulita. Noi abbiamo una quota più bassa rispetto... molto più bassa rispetto a stati che hanno delle condizioni geografiche molto peggiori rispetto alle nostre. Possiamo fare esempio all'infinito. E questa dipendenza ora la pagano tutti gli italiani in bolletta. Attenzione perché la dipendenza della Russia è legata con la questione ucraina. Cioè mentre gli Stati Uniti d'America, che sono quelli che dirigono le operazioni della Nato, interessa poco o nulla le conseguenze in termini energetiche, da parte dell'Europa c'è un grandissimo problema di attenzione. No, no, ma questo a me è chiarissimo. Tant'è che chiedo, chiedo aiuto anche a Crosetto, no? Quando, a parte che rilevo che il sottosegretario Malo Di Stefano dice di aver cambiato idea sul TAP, adesso magari è la posizione solo di Malo Di Stefano e non del Movimento 5L... Movimento ha cambiato idea su tutto. Ma ripeto, il TAP come tutte le infrastrutture fossili non sono la strada con cui noi andiamo a risolvere i problemi perché è un problema che ritardiamo nel tempo.